Antonio, come somiglia a un servile pubblicano. Lo odio perché è cristiano, ma di più perché nella sua bassa ingenuità presta denaro gratis e ci abbassa il tasso di interesse qui a Venezia. Se riesco una volta a prenderlo di fianco, potrò saziare il vecchio rancore che gli porto. Lui odia la nostra sacra nazione e inveisce proprio dove più si radunano i mercanti. Contro di me, i miei affari, il mio ben meritato profitto, che lui chiama interesse. Sia maledetta la mia tribù se gli perdono. Signor Antonio, più e più volte a Rialto voi mi avete insultato per le mie somme di denaro e i miei interessi. Ho sempre sopportato con una paziente scrollata di spalle perché la sopportazione è l'insegna di tutta la nostra tribù. Mi chiamate miscredente, cane assassino, sputate sulla mia gabbana d'ebreo e tutto per l'uso che io faccio di quello che è mio. Ebbene, ora sembra che abbiate bisogno del mio aiuto, ma bravo. Venite da me e mi dite, Shylock, vogliamo del denaro, così mi dite. Voi, che mi avete scatarrato sulla barba e preso a calci come si scaccia dalla soglia un cane randaggio, voi mi chiedete del denaro. Cosa dovrei dire a voi? Non dovrei dire a denaro un cane? È possibile che un bastardo presti tremila ducati? Oppure dovrei prosternarmi? E con il tono di uno schiavo col fiato sospeso e in un umile sussurro dirvi così buon signore, mi avete sputato addosso mercoledì scorso, scacciato a pedate il tal giorno, un'altra volta mi avete chiamato cane e per queste cortesie io vi presterò tutto questo denaro? Grazie. Grazie.